Ciao ragazzi qui Ema dei Lost Forgotten Gamers bentornati a Mystic Quest, sesta puntata oggi si va verso Wendell, vediamo se riusciamo a trovare Chiba con la mia bella catena, anche se adesso probabilmente ci servirà la falce can carry, vediamo un po' cosa si può buttare, buttiamo un pillow, inutile pillow buttiamo pure qualcos'altro per dopo, che abbiamo qua, pure, 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 c'è un sacco di pure buttiamo questo pure da qua va, ok, che ci sta, pure, perfetto ah, morta tu di qua, c'era un passaggio, vediamo se muoio, ah, sono immuni pure alla vera questi bastardoni, ecco, se non sbagliate proprio qua sotto, dove stavano i lizard di me, divina, oh, ha lasciato un'altra, un'altra bronze, bronze, due bronze, ma scusate, ma se questa ha bronze io non ci faccio niente, me ne danno pure due, io ne butto allora, buttiamo una bronze, buttiamo anche l'altra, in caso me la riprendo da qua, non so, ok, due posti liberati, mettiamoci subito il, la falce, eccola, tagliamo, liberiamo la nostra compagna, via in tifa, andiamo, ok, noi possiamo passare di qua, Wendell ci aspetta, ma c'è mortale, andiamo giù, andiamo giù, questi bastardoni di melma, divina pure la falce, ah, quasi abbiamo altra volta la catena, vedete questi, queste colonnine, mettiamo la catena, ecco, chain, vai, eh, la catena, la catena, eh, ragazzi, mi permetterò di stare parecchia distanza, ottima, andiamo, andiamo, qua vedo alberi, gli alberi possono essere tagliati con l'accetta, andiamo un'occhiata, tanto per, non mi metterò a tagliarli tutti, però, vedete, si possono tagliare gli alberi, tante volte ci fosse un passaggetto, chi lo sa, ah, ma io, qua ci sono quasi a corpo a corpo, molto corpo a corpo, api, questi sono veramente api, vespe, ok, è morto, magari chi lo sa, magari si può passare di qua, maiali, cosa sono, maiali, sì, vedete qua, qua rimangono i CP, qui si passa, ottimo, muori, level up, ok, vediamo cosa possiamo far salire, 15 di stamina, power 13, facciamo un wisdom, va, wisdom, yes, sono giù, va, poise, cazzo, provo, abbiamo il pure, pensate che il pure, sì che l'abbiamo, ma scherzi, no, abbiamo due, due contuzioni, perfetto, oh, 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 via qua, via qua la buona, guarda come si muovono, aio, senti, ah, intanto Wask, cura mia ferita, va, corri, 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 pure, mamma mia, cioè, la catena è la cosa migliore, questi casi, questi bastardi che ti attaccano al veleno, che avvelenano, però, il piano di alberi, guardate là, l'altra volta la catena, guardate, andate, vi faccio vedere la mappa, ecco, non sia molto di aiuto, probabilmente, andiamo sopra, intanto, va, prima di cambiare arnaio, facciamoci curare, subito, subito, let me treat your one, sì, siamo dirigendo a Wendell, almeno questo è il nostro obiettivo, dobbiamo trovarla prima, qua c'è un fiume, granchi, gli sparano delle cheve, andiamo sopra, ah, una caverna, Gaia, wow, don't work in my mouth, non vuole che entriamo nella sua bocca, nei suoi labbra, yuk, oh yuk, non ci fa entrare, evidentemente è proprio una faccia, andiamo a Gaia, Gaia, giusto? Gaia, e non ci fa entrare, ai suoi gusti, non gli piaciamo, quindi vedremo dopo, e quella è un'altra cosa, quella sarà l'uscita, eh sì, e qua c'è la catena, andiamo giù un tanto, questa è una fase di esplorazione, stiamo cercando questa, questa città, dobbiamo trovare cibo, devo farci spiegare cosa è successo, qua un'altra catena, qua stiamo sulla spiaggia, ci sono i granchi, un'altra catena, stiamo sulla spiaggia, bello, una grotta, andiamo nella grotta, vediamo cosa c'è, hmm, un danetto, hello, welcome to the dwarf cave, bevendo nella caverna dei nani, vabbè, ciao, ciao, pure i fiori blini, carina sta caverna, ah, può le stanzette scavare, è usato per giocare con le mine con i wats, giocare con i wats nella miniera, la Gaia passa verso la terra occorre, e quindi il passaggio con quella caverna di Gaia si porta a ovest, nelle terre ovest, ma chi sta se dobbiamo andare lì o no, beh, andiamo, continuiamo a vedere questa specie di miniera di moria, un tavolo, tanti sgabelli, altri due nani, wats likes the mine, to when day to day, ah, è andato alla miniera pure oggi wats, looking for some silver, sta cercando dell'argento, gli piace l'argento a questo wats, Gaia has its own wind and feelings, ah, gli piace il silver, silver a Gaia, è vero? ecco perché non ci piaceva entrare, voleva qualcosa di argento, gli dobbiamo portare qualcosa di argento, e wats sta cercando argento, quindi sappiamo che se troviamo wats, troviamo anche dell'argento, però dobbiamo andare a Wendell, non so se sono collegato le due cose, questa è la casa di wats, di questo nano, continuiamo a cercare, ah, sicuramente abbiamo una catena da poter utilizzare, e qua c'è stata da poter tagliare, poi vedi, si è un passo oggetto, si va sulla spiaggia, granchi che muoiono, magliari, muori, qua si torna al e poi andiamo giù, andiamo a vedere nella spiaggia, il mare qua pure, granchi, però però, muoiono dubbio eh, muoiono, ha fatto il giro della spiaggia, andiamo di là, quindi prima di entrare dentro Gaia dobbiamo trovare dell'argento, mi supporto questi vespoi, andiamo a destra, ah, qua c'è stato un ponte, vuol dire che può Wendell, andiamo sotto per curiosità, un puntile, questi per adesso non li possiamo utilizzare, let me treat you want, si, vai vai, quindi, probabilmente sarà Wendell questo, ne ho, diamo un'occhiata un attimo gli alberi, ma si, si, sarà Wendell, bel castellone, welcome to Wendell, Sacra Town, la città sacra, ok, siamo arrivati a Wendell, qua c'è un him in mondo, ah, piccolino, sembra più grande da fuori, che dice, how they, 10 gp a notte, ma noi non ci sapete, siamo appena curati, quindi no, siamo a tutti i punti di magia, qua, che vuoi, man, hello again, have you been, ah, questo è quello che c'è stato nella caverna, è quello che c'è stato nella caverna che ci ha aiutato contro l'idra, bellissimo, vediamo qua, vediamo questo vecchio, here the tree of mana, sentito veramente bello, molto bello, eh, prima o poi lo vedremo, forse, vediamo qua questa ragazza, the water force make whole of fire, le cascate fanno tutti i fiumi, praticamente, creano i fiumi, the water spring from the root of the tree, c'è l'acqua che esce dalle radici del mana, dell'albero del mana, mana is supporting our natural, c'è mana è supportato la natura, supporta la natura, c'è tutto bene, chibas is here, chibas da queste parti, perfetto, e poi vedete, i personaggi delle, sono comunque colpibili e possono morire, ma sono tra i mostri resistenti del gioco, armeria, vediamo cosa venga, un bel po' di grusso di soldi, vai, brodo c'abbiamo, iron, ecco, iron per esempio, mi sembra che ci manca proprio l'armatura di iron, prima di comprata a buffo, io controverei un attimo, ragazzi, ecco, iron, bronze, si, ci manca proprio l'armatura di iron, ottimo, facciamo il set completo, vai, vai, iron, boat iron, perfetto, vendiamoci, mi sa che non ce la fa vendere se non la vogliamo, eh, no, ok, mettiamoci subito, iron, tutto il completo di iron, perfetto, e vendiamoci questo di bronze, intanto, che ce ne fanno più, bronze, 55 gp, perfetto, eh, abbiamo completato il set, è ottimo, vediamo di qua, vediamo questo ragazzino che dice, Chiba is a se, è un saggio Chiba, lui era un grande guerriero è stato, è stato un grande guerriero, e adesso non è stato un Bogard che è stato, è stato, è stato, o è tuttora, un Gemma Knight, e questo Chiba che dice è stato, lui è un guerriero, e ora è un saggio, vediamo cosa ci vende lui, pure pure, hey drop, ok, vediamo un po' se ci serve qualche chiave, ragazzi, non saprei, ah, tre chiavi qua, no, voglio, magari ce ne abbiamo tante, Mattock, forse è Mattock, ho visto malo, ci abbiamo pochi, eh, un Mattock, compriamo se è un Mattock, non si sa mai, Mattock, e questo che dice, mi ha parlato, Dwarf Kavies to the West, la cavernaia ovest, quella dei nani, sì, ci sono stata la cavernaia dei nani, ho visto che ci sono un certo Watts, e quindi non ci resta che, stiamo andando già a parlare, sì, sì, già ci siamo parlato, non ci resta che andare a parlare con Chiba, sì, 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 vediamo l'ultima, l'ultima volta l'alleggiamento, non so cosa mi posso aspettare, di preciso non lo ricordo, ma, andiamo sul ponte, ah, colonnoni mortali, ragazzi, io salverei qui, e vi aspetto alla prossima puntata di Mystic Quest per andare a parlare con Chiba, ciao da Ema! Ciao! 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 Ciao!